Ciao a tutti, oggi parliamo della FIV nel gatto, una patologia che molto spesso va di pari passo con la FELV, ma non sempre. In questo video parlo della FELV, quindi se siete interessati a sapere di più della leucemia felina andate a vedervi il video. In questo video invece si informiamo sulla FIV, il virus dell'immunodeficienza felina, un virus che è praticamente parente stretto di un virus che colpisce l'uomo che è l'HIV. Quindi in questo video andremo a trattare prima di tutto che cos'è la FIV, che tipo di virus e come il virus all'interno del corpo del gatto si comporta, che tipo di problemi dà fondamentalmente questo virus nel nostro gatto e poi fondamentalmente in conclusione andremo a vedere come gestire i gatti FIV positivi e fondamentalmente come cercare di ridurre questa patologia nel mondo felino. Allora, partiamo subito ricordandovi che se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi pure in questo canale, come vedrete parliamo di patologie di cani e gatti e ovviamente diamo anche delle curiosità, dei consigli ai proprietari di cani e gatti in modo tale da prima di tutto informare e secondariamente magari anche aiutare in alcune piccole cose. Inoltre se avete delle curiosità su questo video lasciate un commento e se invece avete delle curiosità su altri argomenti lasciate pure un commento, io cercherò poi di realizzare un video rispondendo al vostro commento. Partiamo subito dicendo come vi ho spiegato prima che la FIV, il virus della FIV è praticamente fratello del virus dell'HIV, quindi è un retrovirus è un virus RNA che attraverso l'enzima trascriptasi inversa riesce a entrare nel genoma delle cellule, così come fa il virus dell'HIV. Ama fondamentalmente le cellule, si replica di solito a livello di tessuti linfoidi, ama fondamentalmente i linfociti Tcd4cd8, linfociti B, macrofagi e anche astrociti. Generalmente è un virus che si comporta prima in una fase acuta diciamo e poi è una fase di latenza che può durare diversi anni, così come ripeto accade nell'HIV. Nel gatto la trasmissione è tendenzialmente attraverso il morso, quindi la trasmissione attraverso la saliva. Anche per via sessuale raramente per via verticale però c'è la trasmissione fondamentalmente il virus da parte della gatta ai gattini e qui poi ci soffermeremo su come bisogna fare quando abbiamo una gatta positiva e dei gattini che risultano positivi, perché i gattini potenzialmente non è detto che se sono positivi appena nati rimarranno positivi. Tendenzialmente se dopo i sei mesi sono positivi probabilmente rimarranno positivi, ma può essere che prima dei sei mesi si negativizzano e quindi non abbiano la FIV. Allora, il virus fondamentalmente una volta che viene trasmesso, ripeto, attraverso il morso, attraverso il rapporto sessuale tra gatto positivo, fondamentalmente può avere una fase acuta, quindi possiamo avere una lieve febbre, una linfadenopatia che magari può sfuggire chiaramente al proprietario, cioè non è detto che vi accorgete immediatamente che il gatto sta male. Questa è una fase diciamo acuta, superata questa fase acuta entriamo in una fase subclinica che può durare diversi anni, dai 3 ai 10 anni, nel caso della FIV, in cui fondamentalmente il virus non dà problemi. Quindi il gatto tendenzialmente sta bene. Quando poi inizia l'immunodepressione, quindi il sistema immunitario comincia ad andare diciamo in crisi, questi gatti cominciano ad avere una serie di problematiche secondarie perché il loro sistema immunitario non funziona più come dovrebbe funzionare, fino a un punto in cui non funziona proprio più, perché proprio a livello midollare c'è proprio una carenza ormai di cellule della serie bianca e soprattutto però dà anche anemia e trombocitopenia e quindi ovviamente poi arriva la morte del gatto. È una malattia molto lunga come avete visto, cioè una fase subclinica che veramente può durare veramente 10 anni, quindi voi potete avere un gatto FIV positivo un anno che può vivere tranquillamente 10, 11, 12 anni, senza problemi. Di solito nell'arco della vita saranno animali soggetti a infezioni batteriche, a infezioni parassitarie, quindi sono animali che se vivono una vita all'esterno saranno molto più delicati rispetto a un gatto normale, quindi il consiglio in primis è quello, prima per salvaguardare il gatto, che i gatti FIV positivi dovrebbero vivere in casa e secondariamente i gatti FIV positivi, oltre ad essere castrati ovviamente e sterilizzati, dovrebbero stare in casa anche per ovviamente ridurre la patologia poi nel mondo felino. Che cosa crea, quali sono la maggior parte delle patologie che noi medici veterinari vediamo fondamentalmente legati, correlati alla FIV? Beh, abbiamo una serie di patologie per esempio, partendo subito da le patologie per esempio, ci sono delle patologie delle stomatiti che sembra esserci in correlazione col virus della FIV, anche se molto spesso il virus della FIV non è la principale causa di queste stomatiti, ma sono più i calicivirus, però fondamentalmente un soggetto FIV positivo è più soggetto alla stomatite rispetto a un soggetto sano tendenzialmente. Poi a livello di neoplasie sono animali soggetti, hanno una prevalenza legata ai linfomi e ad altre tipologie di neoplasie, sembrerebbe come carcinomi e sarcomi, quindi c'è anche correlazione virus FIV con neoplasie. Poi sono animali che hanno una scarsa resistenza poi ad alcune tipologie di parassiti e batteri come per esempio i micoplasmi e quindi sono animali che tendenzialmente devono stare attenti alle infestazioni da pulci che possano trasmettere i micoplasmi, quindi sono gatti che devono avere l'antiparassitario tutto l'anno, non devono uscire potenzialmente proprio per evitare che possano prendere i micoplasmi, che quindi possono dare un'anemia. Se già abbiamo un'anemia non rigenerativa molto spesso nella FIV, questo va a peggiorare la situazione. Poi Toxoplasma, Toxoplasma fondamentalmente in un FIV positivo di solito manifesta la sua azione, di solito come si manifesta Toxoplasma in maniera abbastanza subdola, però di solito colpisce il sistema nervoso centrale e fondamentalmente gli occhi, ma anche tutto il sistema muscolare, quindi possiamo avere tutta una serie di patologie, uveita anteriore, possiamo avere nystagmon, atassia in coordinazione legata a Toxoplasma e possiamo avere fondamentalmente a volte anche dei cambiamenti comportamentali del gatto, quindi magari gatti che cominciano a vagabondare, a fare i vagabondi, magari non l'ha mai fatto. In tutte queste situazioni a volte ci sono proprio delle patologie che invece sono correlate per esempio solo al virus, quindi non ci sono agenti secondari e di solito può dare una diarrea, un'enterite, la FIV da sola e ho visto anche delle dermatiti da FIV, nel senso che sono gatti che non hanno altre patologie, hanno delle dermatiti e anche delle enteriti, quindi fondamentalmente la FIV predispone a una serie chiaramente di agenti secondari che trovano chiaramente campo libero perché il sistema immunitario non è più competente e quindi mentre in un gatto sano riescono a contrastare alcune tipologie di infezioni, in un gatto FIV positivo questo non avviene, soprattutto quando la malattia si manifesta. Come vi ho spiegato c'è una fase subclinica in cui il gatto fondamentalmente non ha nessun tipo di problema, ha il suo sistema immunitario che ancora funziona, poi a un certo punto si scatena, di solito si pensa dopo i 3 anni, dei 3-10 anni e in quel caso lì chiaramente predispone a una serie di patologie. Come si fa la diagnosi di FIV? Si fa attraverso un esame elisa ambulatoriale, basta a volte due gocce di sangue e abbiamo fondamentalmente la positività alla FIV. Questa in realtà andrebbe poi confermata poi più avanti per verificare che chiaramente il gatto rimarrà FIV positivo oppure fondamentalmente esiste, come nell'HIV, una percentuale di casi che riesce a contrastare il virus e a negativizzarsi. Non è così frequente, però va verificato. Nei gattini invece questa cosa può avvenire, quindi è molto importante che prima di dare un gatto, un gattino FIV positivo, soprattutto se si deve dare a una famiglia che magari ha dei gatti sani, soprattutto i gattini, si può chiaramente aspettare, i testi dicono di aspettare almeno fino ai 6 mesi, se dopo i 6 mesi rimangono positivi, probabilmente sono positivi, quindi è sconsigliabile darlo a qualcuno che ha un gatto sano, quindi è molto importante nella gestione, chiaramente anche quando introducete un gatto nella vostra casa e avete già un altro gatto, magari avete un gatto negativo, state attenti, bisogna sempre verificare, è molto difficile nel gatto l'introduzione di un nuovo gatto proprio per queste malattie come la FIV e come la FELV. La terapia, fondamentalmente ad oggi si utilizza l'interferone, anche se esistono ormai degli studi che sembrerebbe che i classici farmaci antivirali che si utilizzano per l'HIV abbiano comunque un effetto benefico anche sui gatti, chiaramente i costi dei farmaci per l'HIV sono molto elevati, quindi ad oggi si tratta solo di studi, non abbiamo dei dati così enormi per dire effettivamente, però ovviamente i dati sono positivi sul fatto che questa tipologia di farmaci fondamentalmente prolunga la vita di questi gatti fit positivi. Un'altra cosa che volevo dirvi è fondamentalmente poi la gestione, non esiste vaccinazione in Italia, in alcuni paesi esiste un vaccino per la FIV ma sembrerebbe non avere una grande efficacia, fondamentalmente, altrimenti esisterebbe probabilmente anche il vaccino per l'HIV che non esiste ad oggi. Quindi la gestione della patologia è abbastanza semplice, nel senso che non semplice per il proprietario, ma dal punto di vista gestionale sarebbe molto semplice, cioè questi gatti fit positivi non dovrebbero uscire. Dovrebbero stare in casa perché allunghiamo la vita loro ed evitiamo che vadano a contagiare altri gatti. Ovviamente andrebbero castrati sterilizzati, questo diciamo è il top. Pulire sempre bene cassette, soprattutto quando avete avuto un FIV positivo che poi è venuto a mancare, prima di introdurre un nuovo gatto pulite sempre tutto bene, questo sia per la FIV che per la felve. Niente, questo è tutto, spero di avervi dato alcune indicazioni su questa patologia, ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti.